Ciao, stami bene. Ciao a tutti! Perché l'importante non è quello che si fa, quello che si pensa, quello che si dice, ma è scappare alle zecche. No, soprattutto l'importante non è tanto quello che si dovrebbe fare, ma ciò che ci si convince che sia quello che stai facendo. Non ho mica capito io. Bravo! E anch'io non ho capito se abbiamo passato o non passato la porta santa. Non l'abbiamo passata. Non l'abbiamo passata, ma c'è qualcuno che sostiene. L'abbiamo fatta diventare santa. L'abbiamo fatta diventare santa, se abbiamo o non abbiamo mangiato, se esiste o non esiste il cibo senza glutine, e soprattutto se la pasta al ragù che è stata data a loro era o non era congelata. No, ma era il congelamento di Schrödinger. Finché non l'apri. Può essere sia congelata che scongelata. Ma se la lasci quei 20-30 giorni al sole diventa ottima. Ecco, vi facciamo vedere la gente che è in fila per prenderla e ancora non sanno, i poveretti, che cosa troveranno nel loro sacchetto. Bene, ora ci prepariamo... Alle tre e mezza di pomeriggio. Alle tre e mezza del pomeriggio. Ciao. Ci prepariamo per la messa degli italiani. Ciao, ciao. Ciao.